Lo studio della Costituzione, l'educazione ambientale, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale. In due parole, l'educazione civica, che diventerà materia obbligatoria e autonoma nelle scuole italiane dopo la legge dell'agosto 2019. Le parole chiave dell'educazione civica sono spirito critico e responsabilità. Per questo, per gli insegnanti, saranno aperti quattro laboratori gratuiti online. Questo progetto consiste in un percorso formativo destinato a insegnanti, bibliotecari, educatori del territorio fanese, che si svolgerà online. Sono quattro laboratori di un'ora e mezza ciascuna. Proprio per il fatto che si svolgono online, naturalmente saranno aperti a tutti coloro che vorranno eventualmente unirsi. Qual è il contenuto di questi corsi? L'oggetto didattico fa riferimento alla recente legge che reintroduce l'educazione civica nella scuola. In particolare, affronteremo tramite questi quattro laboratori il tema relativo all'educazione e alla cittadinanza digitale, che nello specifico richiede di approfondire con i ragazzi, con gli studenti della scuola del primo ciclo e del secondo ciclo temi come la valutazione delle informazioni, tanto per fare un esempio il tema delle fake news, l'uso dei servizi pubblici digitali e in particolare un approfondimento sulla gestione dei conflitti online, in particolare sul cyberbullismo, trattandosi di giovani, appunto di fasce d'età giovanili. L'idea è quella di fare un laboratorio estivo che sia propedeutico a un corso di formazione che verrà proposto poi dal Polo 3, che collabora insieme alla Mediateca Montanari, a partire da settembre a tutti i docenti delle scuole di Fano. Questi laboratori propedeutici sono assolutamente interessanti per gli insegnanti, bibliotecari e gli educatori, perché consentono a queste figure professionali, che normalmente lavorano in settori apparentemente separati, di conoscere e conoscersi e quindi scambiarsi anche le buone pratiche. I bibliotecari possono far vedere come funziona la filiera dell'informazione, la filiera della conoscenza registrata, mentre gli insegnanti certamente possono scoprire e lavorare insieme sulle strategie didattiche migliori da adottare con i ragazzi per renderli dei cittadini consapevoli.